Qua si cuociono le frizioni, comunque figa no? Ho cambiato le gomme, avevo su quelle originali, ho messo su le shark, figa è una cosa simile a queste qua così, figa è, aggrappa fuori da tutte le parti C'è bene, eh? C'è una cifra dove c'è? Vettro, Vettro, Cana Vettro, 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 Vettro Rinaldi Rinaldi Questa velo bene Roba che troppo Grazie.